Oggi ci sarebbe dovuta essere l'udienza del 25 giugno, sarebbe dovuta essere una data importante e invece questo sciopero degli avvocati dell'Unione delle Camere Penali vi riporta ancora a combattere, al dolore e a non avere nulla in mano ancora. Purtroppo è proprio così, poi c'è una combinazione strana che guarda caso, proprio oggi dovono fare questo sciopero delle Camere Penali che già precedentemente è accaduto, quindi ci sospettisce un po', questo rallentamento, questo perdere dei tempi, insomma ci bastisce tantissimo. Che cosa vi aspettavate dall'udienza di oggi? Che almeno cerchiamo di chiudere la prima fase perché non ancora riusciamo a chiudere la prima fase, cioè si è perso quattro anni e mezzo quasi e non si riesce a sapere niente di concreto ad oggi, si fa l'appello, si perde tempo e poi c'è chi dà il rinvio, il giudice e ce ne andiamo a casa senza aver concluso nulla. Una vostra delegazione anche all'interno che cosa chiederà al giudice quando uscirà dall'aula per il rito di rinvio? Sicuramente in un modo tranquillo chiederanno che si accelerino i tempi, vengono accelerati perché non è giusto che noi veniamo presi proprio a pesce in faccia quasi, presi in giro perché la giustizia dovrebbe essere al servizio del cittadino, invece qua sembra che sia al servizio di qualche potere.